Non mi ha portato una maestra, questa qua. Perché la scuola da Ena? Scusate che mi devi voler insegnarti. No, no, no. L'hai fatto un tre anni la prima, un sette anni. Ma è la persona che ci porta la maestra, se non si è grecia. Dopo il comandante è sopravvisa. Perché l'ha legato la corriere, perché il piano è sopravvisa? Iscriviti al nostro canale!